... Palinuro dai computer la verità sulla tragedia. In attesa di recuperare la terza e ultima salma, gli inquirenti sono al lavoro per capire cosa si è accaduto a 50 metri di profondità. Sequestrata l'attrezzatura dei sub, nessuna ipotesi viene esclusa. Renzi a Napoli, allontana il voto, si voterà per le politiche nel 2018, al di là di come finirà il referendum sulla riforma costituzionale, annuncia il Premier, atteso oggi a capo di Chino, con la Merkel e Hollande per il vertice di Vento Tene. Blitz al Festival, sei fermi per droga, duro colpo della poesia al mercato dello spaccio ad Ariano, arrestati cinque uomini di colore e una donna italiana. L'operazione nell'area campeggio dell'Ariano Folk Festival, che continua regolarmente. Bonea, bomba carta contro un'abitazione, successo nella notte davanti alla casa di un pensionato, 75enne del comune Caudino, annerito il portone, mistero sul muovente, un mese fa le intimidazioni contro due consiglieri comunali. Allarme benzene e polemica a Tufino, dati preoccupanti dall'ARPAC per l'inquinamento dell'aria nella zona della discarica. Il sindaco esposito chiede alla regione interventi urgenti o monitoraggio per tutelare la salute dei cittadini. Avellino, la sindaga sulla pisciata comunale, si allarga l'inchiesta sulle strutture sportive dopo il blitz della mobile negli uffici del municipio per lo stadio. Accertamenti anche sull'impianto di Via De Gasperi realizzato con il Project Financing. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione regionale del Tg di 8 Channel. Lo avete sentito dai titoli di apertura in primo piano ancora la tragedia di Palinuro. In attesa di recuperare la terza ed ultima salma, il comune cilentano si interroga sull'ennesima tragedia nelle sue acque. La procura indaga, sequestrata l'attrezzatura dei sub al momento. Nessuna ipotesi viene esclusa. Vediamo. Li hanno trovati incastrati nel punto più stretto della grotta della Scaletta, quello dove l'accesso si fa più complicato. Erano vicini Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. Non sono riusciti a riemergere dopo l'ultima drammatica immersione nelle acque cilentane. Soccorritore ancora al lavoro invece per individuare l'ultimo corpo, quello di Silvio Anzola, secondo Giovanni Nanni, direttore regionale dei Vigili del Fuoco. È solo questione di ore. Le salme dei due componenti del team Mauro Sub sono state recuperate e trasferite presso la camera mortuaria dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Lacrime e dolore alla morgue, uno strazio durato diversi giorni e le speranze già flebili che si affievolivano fino a scomparire del tutto. Ieri le ricerche si sono fermate dopo che uno dei soccorritori ha avuto un malore. Uno speleo sub della sezione di Roma dei Vigili del Fuoco è stato colto da embolia e trasportato in camera iporbarica. Per fortuna non è in pericolo di vita. Intanto il sostituto procuratore Vincenzo Palumbo, insieme a Capitaneria di Porto e Carabinieri, ha avanzato le prime ipotesi su quello che può essere accaduto in quella maledetta immersione. Una delle più gettonate e che possa esserci stato un problema ad uno dei tre, forse un malore. Ipotesi appunto ancora non suffragate da riscontri concreti. Anche per questo è possibile che una volta ultimate le operazioni di recupero verrà disposta l'autopsia. Un aiuto può venire dai computerini che i tre avevano al polso sequestrati dalla procura e che saranno analizzati insieme al resto dell'attrezzatura. L'obiettivo è fare chiarezza, quantomeno per escludere un guasto meccanico. L'ufficio del procuratore al momento non esclude alcune ipotesi. Le indagini continuano e presumibilmente dureranno diverse settimane. Ed ora i fatti della politica con il premier Matteo Renzi che allontana l'ipotesi del voto anticipato. Alle urne per le politiche nel 2018, al di là di come finirà il referendum sulla riforma costituzionale, annuncia il Presidente del Consiglio atteso oggi a Capodichino con la Merkel e Hollande per il vertice di Ventotene. Non ci saranno elezioni politiche anticipate. Gli aspiranti ad un posto in Parlamento si mettano l'anima in pace, almeno per ora. Il premier Renzi spiazza tutti, anche il suo stesso Partito Democratico, che in Campania aveva già avviato le manovre in vista di un possibile voto dopo il referendum di novembre sulla riforma costituzionale. Per candidature, alleanze e manovre interne che già agitavano le segreterie locali del Partito Campano, dunque tutto da rifare. Comunque Vada si voterà nel 2018, annuncia il Presidente del Consiglio, che così spersonalizza il test del referendum, ma soprattutto scarica anche le armi che la sinistra del PD stava già affilando contro di lui, affidando a Massimo D'Alema la guida dell'esercito democratico e dell'opposizione interna, schierata decisamente per il no. Il premier, oggi impegnato nel vertice di Ventotene con Merkel e Hollande, allontana da Napoli l'ipotesi del voto e può consolarsi perché incassa anche il pieno sostegno alla battaglia per il sì al referendum del Presidente di Confindustria, il salernitano Vincenzo Boccia, che sollecita il governo ad un maggiore impegno negli investimenti per la ripresa economica del mezzogiorno. Il sì al referendum parte dal fatto che se tu vuoi un paese che parta da una politica di offerta e abbia una visione di lungo periodo, quella pazienza che citava Mattarella proprio qui, devi avere una dimensione di governabilità e di stabilità che ti permette di poter avere quella pazienza. Perché se ogni sei mesi sei in campagna elettorale, fai ogni sei mesi una politica della domanda. Noi partiamo dall'economia e arriviamo alla politica. Paura a Licola, sparatoria in strada, in pieno giorno cresce la paura tra gli abitanti della Litorania, ma c'è chi non crede all'ipotesi della lite, ma nessuno sa dire niente, nessun testimone, nonostante gli spari siano stati esplosi in pieno giorno. Vediamo. Spari tra la folla a Licola Mare, davanti ad un bar in pieno centro sale la paura per la sicurezza che non c'è sulla Litorania, tra crimini, spari, spaccio e prostituzione. Un quarantenne rimasto ferito ad una gamba, l'uomo secondo quanto si apprende, aveva precedenti per furto, ma risalenti a circa 20 anni fa. Sul luogo della sparatoria sono stati trovati dei bossoli, ma la versione del ferito è al vaio dei carabinieri, che stanno indagando a 360 gradi. Bocche cucite, nessuno sembra aver visto niente in zona. Tutti hanno sentito gli spari, ma stando ai racconti, nessuno avrebbe avuto l'istinto di affacciarsi per vedere e capire cosa stesse accadendo. Nella zona ci sono negozi, bar, abitazioni, ma nessuno ha visto niente. Solo due donne, che vivono a pochi passi da dove sono stati esplosi i colpi di pistola, hanno riferito qualcosa. Le loro case affacciano direttamente su Via del Mare, dove è stato ferito Vincenzo Cante. Parlano a bassa voce e dicono, speriamo che adesso non scoppi la guerra, speriamo. Sussurra una delle due donne, mentre in lontananza i carabinieri stanno completando i rilievi. Hanno paura, ma di cosa? Forse perché non credono alla versione della lite e quindi in un movente più serio? Oppure il timore è dettato dai protagonisti della vicenda? Tanta la paura in zona dunque come per quella bambina che è rimasta ferita psicologicamente. Non riesce a muoversi, stava giocando sul balcone quando ha sentito quegli spari. Duro colpo della polizia al mercato della droga. D'Ariano arrestati i sei spacciatori nell'area campeggio dell'Ariano Folk Festival. Avevano allestito un vero e proprio mercatino della droga. I particolari nel servizio. Negli arresti per droga durante l'Ariano Folk Festival è accaduto al Boschetto Pasteli nell'area riservata al campeggio per i tanti ospiti provenienti da ogni parte d'Italia e dell'Europa. Le manette sono scattate ai polsi di cinque giovani, nazionalità Ghana e Senegal, e di una donna italiana originaria di Roma, tutti di età compresa dai 20 ai 25 anni. Sono stati gli uomini del reparto volanti del commissariato di polizia di Ariano Irpino durante un servizio di prevenzione già in atto da alcuni giorni, volto a contrastare il consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, a notare strani movimenti nei pressi di una bancarella allestita nell'area camping, un viavai di giovani che non si limitava al normale acquisto di oggetti etnici ma ben altro. Gli extracomunitari avevano tra le mani un marsupio che si passavano ripetutamente tra loro, prelevando di volta in volta qualcosa da consegnare ai giovani acquirenti. L'intervento tempestivo ed efficace degli uomini diretti dal vicequestore Maria Felicia Salerno consentiva di bloccare gli spacciatori e recuperare il marsupio con all'interno oltre 60 dosi già confezionate di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina. Nel corso del blitz veniva bloccata anche una giovane donna, risultata essere la cassiera del gruppo. Stazionava nei pressi della bancarella ed incassava frettolosamente il denaro dei giovani clienti frutto dell'attività di spaccio. Rinvenute nel marsupio banconote di vario taglio pari a circa 3.000 euro. L'operazione si è conclusa all'alba. Poco prima delle 7 si sono aperte per i 5 uomini di colore le porte del carcere di Ariano Irpino. La donna invece è stata accompagnata e ristretta nella casa circonderale di Bellizzi. Tutti a disposizione dell'autorità giudiziaria della procura di Benevento che conduce l'inchiesta. Nessun problema nella location di Calvario dove i concerti si sono svolti regolarmente. Si allunga la lista degli attentati intimidatori registrati negli ultimi tre mesi a Bonea. Nel Sannio dopo le auto danneggiate di due consiglieri comunali, la scorsa notte una bomba è esplosa dinanzi all'abitazione di un 75enne. Vediamo. Un botto provocato dalla deflagrazione di una bomba carta ha rotto questa notte la quieta a Bonea, centro della Valle Caudine in provincia di Benevento, e più volte finito al centro della cronaca per una serie di attentati che ha coinvolto maggiormente esponenti dell'amministrazione comunale. Questa volta però le attenzioni dei malviventi sono state rivolte ad un 75enne, destinatario dell'avvertimento. Erano da poco trascorse le due, quando qualcuno ha posizionato ed ha fatto esplodere l'ordigno dinanzi al portone della casa dell'anziano. La deflagrazione ha danneggiato l'infisso ed ovviamente ha richiamato l'attenzione della stessa vittima e dei residenti. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini sull'ennesimo episodio di chiaro stampo intimidatorio. Come si ricorderà infatti a luglio scorso, le auto di due consiglieri comunali avevano subito la stessa sorte. In particolare una era stata incendiata, l'altra invece danneggiata dall'esplosione di una bomba carta. Episodi sui quali sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, che però allo Stato ancora non hanno fatto chiarezza su entrambi i casi. È ricoverato in prognosi riservata al Moscati di Avellino, un operario 53enne di Altavilla Erpina. L'uomo è rimasto folgorato mentre smontava le luminarie in corso Garibaldi. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione. Tragedia sulla sedice, rientro dalle vacanze. Il bilancio del controesodo è di una morte di due feriti gravi. Erano tutti a bordo della stessa auto volata in un burrone lungo l'autostrada all'altezza di Prato la Serra. Il servizio. È stata una domenica tragica per una famiglia di ritorno dalle vacanze in Puglia. Il bilancio del controesodo è dei peggiori. Una madre di 49 anni ha perso la vita a Giuseppina Palumbo, ferita la figlia, il marito e il genero, quest'ultimi in condizioni gravi. La prognosi riservata all'altezza del chilometro 52 tra i caselli di Benio e di direzione Napoli, nel territorio del comune di Prato la Serra, la Fiat Idea, guidata dalla donna, è finita improvvisamente fuori strada. La conoscente Giuseppina Palumbo, 49 anni, residente a Melito di Napoli, è morta sul colpo. A chiamare i soccorsi sua figlia, che nonostante le ferite è riuscita a risalire la scarpata e chiamare i soccorsi. Sul ciglio della strada è riuscita a bloccare un tir guidato da un camionista che ha allertato gli agenti della polizia stradale di Avellino Ovest, i quali hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il medico del 118, intervenuto sollecitamente sul luogo del sinistro, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto, i vigili del fuoco di Grotta Minarda, che hanno estratto la donna dal groviglio di Lamiere, in cui erano rimasti prigionieri i tre. A bordo dell'autovettura si trovava il marito della conducente, Peppe Maisto, militante politico melitese di 52 anni, sua figlia di 19 ed il fidanzato di quest'ultima di anni 23. Non sono risultate gravi le condizioni della ragazza, mentre sono più preoccupanti quelle dell'uomo e del genero. Il corpo di Giuseppina è stato trasportato presso l'obitorio dell'azienda ospedaliera Moscati, dove oggi sarà eseguita l'autopsia da parte della dottoressa Semenza. Il traffico lungo la 16 non ha subito rallentamenti. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro giudiziario. Allarme benzene nei dintorni dello stir di Tufino. Le centraline dell'ARPAC hanno rilevato livelli di inquinamento dell'aria dieci volte superiore alla soglia ed è polemica sui ritardi nei monitoraggi. Il sindaco nel comune napoletano chiede aiuto alle istituzioni. Vediamo. Belli record di benzene nelle aree circostanti l'impianto stir di Tufino. L'ultima rilevazione risalente a due settimane fa indica un livello di benzene nell'aria pari a 44 millesimi di millimetro per metri cubi, quando il limite medio annuo è di soli 5. Non solo, i dati relativi al monitoraggio appaiono ancora più preoccupanti se confrontati con quelli riscontrati nei dintorni di altri stir come Caivano o Battipaglia, dove i livelli sono molto inferiori. Di questi dati si è interessata anche la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà, che ha rilevato come i picchi registrati a Tufino siano stati comunicati con gravissimo ritardo, quindi senza più poter intervenire per conoscere ed eventualmente eliminare le cause, tutto a scapito della salute della gente. Ed arriva anche il primo esposto, quello presentato dai consiglieri di opposizione del Comune Napoletano, che chiedono chiarimenti all'Agenzia per l'Ambiente. Intanto il sindaco di Tufino, Franco Esposito, invita ad evitare inutili allarmismi ferma restando la necessità di procedere con ulteriori controlli per preservare la pubblica incolumità. Sono dati allarmanti, noi già ci siamo preoccupati. Abbiamo, nelle ultime riunioni che abbiamo fatto in Regione Campania convocati in una conferenza dei servizi, dove abbiamo evidenziato un controllo più attento sia sulle falde acquifere, sia un controllo dell'aria per vedere effettivamente quali sono le fonti che potrebbero provocare questo aumento di benzene nel territorio. Probabilmente è da imputare alla viabilità, al volume di traffico dei camion che arrivano, ad altre fonti probabilmente a noi sconosciute. Goletta del Sarno al via i prelievi per la campagna di monitoraggio promossa da Legambiente. Attenzione puntata sul corso d'acqua, diventato tristemente noto come il fiume più inquinato d'Europa. Goletta del Sarno al via i prelievi per la campagna di monitoraggio promossa da Legambiente. Attenzione puntata su quello che è tristemente noto come il corso d'acqua più inquinato d'Europa. I risultati delle analisi della scorsa edizione hanno evidenziato come il Sarno stia lentamente morendo e i killer sono gli scarichi abusivi che si riversano nel corso d'acqua. Nel 2015, su 30 punti campionati da Solofra fino a Castellammare di Stambia, soltanto sei meritarono un giudizio positivo confermando il grave grado di sofferenza del fiume e dei suoi principali affluenti dovuto a scarichi di reflui industriali e urbani non depurati all'inquinamento da fertilizzanti e pesticidi dell'agricoltura alla profonda manomissione degli ambienti perifluviali ridotti ai minimi termini. E i forti ritardi che ancora si registrano in fatto di realizzazione e messa in esercizio della rete dei depuratori e delle forniture non lasciano ben sperare rispetto ai risultati di queste nuove analisi. Muore mentre seppellisce una bara. La tragedia è venuta al cimitero Leone di Montoro, ma allora avrebbe stroncato l'operaio un 59enne del posto. L'uomo dipendente della cooperativa che si occupa dei servizi cimiteriale stava spostando un copribara per permettere la sepoltura quando all'improvviso ha accusato forti dolori al petto e si è accasciato al suolo. Immediato è scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per il malcapitato non c'era più nulla da fare. A quanto pare il 59enne, già in passato, aveva avuto problemi di natura cardiaca. Mentre la procura di Avellino continua le indagini sulla regolarità della convenzione tra Comune e OS Avellino del 2013, le indagini si spostano anche sulla piscina comunale. Il CONI chiede una mappatura degli impianti in città e in provincia. Vediamo. Punta il giallo della firma della convenzione tra Comune e OS Avellino. Infatti, secondo indiscrezioni raccolte a Palazzo di Città, il rinnovo della convenzione potrebbe addirittura non essere stato firmato nel 2013 o quantomeno risultare incompleto e perciò i lavori eseguiti senza le dovute autorizzazioni. Su questo particolare allora potrebbero essere concentrate le indagini della procura di Avellino sui rapporti tra amministrazione e società biancoverde. Intanto l'inchiesta sembra allargarsi e tocca anche la piscina comunale che sarebbe stata oggetto nei giorni scorsi di un sopralluogo da parte della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle avrebbero chiesto anche la consulenza di un funzionario del CONI regionale. Sull'ennesima inchiesta che ha scosso il capoluogo irpino interviene proprio il delegato provinciale del CONI, Giuseppe Saviano, che chiede una mappatura completa e dettagliata degli impianti della provincia. Questa è una cosa che abbiamo detto in Commissione anche insieme ad altri consiglieri comunali per la verità della stessa maggioranza di pubblicare coloro i quali usufruiscono delle palestre pubbliche, la tariffazione, gli orari e quant'altro. Non dimentichiamo che nel 2019 avremo l'appuntamento delle universiadi per non parlare del 2024 con la possibilità delle Olimpiadi di Roma. Come provincia di Avellino e come Campania dovremmo farci trovare pronti. Gli impianti, lo ricordo a chi ha la memoria corta, vengono costruiti con i soldi pubblici, quindi con i soldi dei cittadini. Quindi i cittadini devono avere dei vantaggi rispetto a tutto ciò. Noi dobbiamo aprirli gli impianti. Io ho fatto sempre una battaglia con qualcuno che pensava che l'impianto pubblico fosse di uso proprio. Bisogna naturalmente mettere delle regole e farle rispettare. Tra Saverna e provincia sono tre le prostitute uccise in meno di un anno. Fermato il presunto assassino di Pagani ancora caccia invece al colpevole in città. Procura al lavoro. È stato incastrato dalle videocamere della zona che lo hanno immortalato, mentre si allontanava con la sua auto dal luogo dove i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita della malcapitata. Carmine Ferrara, 36 anni, di vietri sul mare, è rinchiuso nel carcere di Forni con l'accusa di aver ucciso Nina Temenunzga, 37enne, prostituta bulgara, trovata morta lo scorso 19 agosto a Pagani. Muratore, padre di tre figli, secondo i carabinieri del reparto territoriale di Nocera che lo hanno arrestato, la sera del 12 agosto avrebbe caricato a bordo della sua Citroen C2 la prostituta. Anche due prostitute straniere che hanno denunciato la scomparsa di Nina hanno individuato in lui la persona che ha caricato la donna la sera in cui se ne sono perse le tracce. A casa di Ferrara sono state trovate sequestrate una pistola artigianale, tre assalve, un giubbotto antiproiettile, 50 cartucce calibro 38 e diversi DVD pornografici. Il PM Federico Nesso gli contesta l'accusa di omicidio volontario aggravato. Da chiarire ancora il movente e la dinamica del delitto. Quel che sembra certo è che Nina ha subito non poche violenze prima di morire a giudicare dai tanti segni sul corpo. La provincia di Salerno si trova adesso a fare i conti con la terza prostituta uccisa in meno di un anno. La prima fu Alina Ripa, uccisa il 31 dicembre 2015, cui seguì a maggio Mariana Zecheres, entrambe trovate senza vita nella zona di San Leonardo a Salerno. Le procure di Salerno e Nocere Inferiore dovranno ora confrontarsi e valutare se il presunto colpevole di Pagani possa essere coinvolto anche negli altri episodi criminali per i quali, a distanza di mesi, ancora non c'è un colpevole. Topi, serpenti e sporcizia. I cittadini di Pacevecchia a Benevento sono esasperati per la situazione di degrado che si è creata nel quartiere tra immondizia e vegetazione in colta. Vediamo. Topi, serpenti e sporcizia. I cittadini di Pacevecchia, esasperati, hanno ancora una volta segnalato le situazioni di degrado in cui, in alcuni punti, versa il quartiere, uno dei più popolosi di Benevento. Pochi giorni fa ci eravamo occupati delle mini discariche che sorgono ai limiti del quartiere, nei punti più nascosti, ma anche nel centro abitato. Ci sono diversi problemi. Un parco giochi completamente ricoperto da immondizia, con le giustrine distrutte e sacchi di spazzature e vecchi elementi di arredo sparsi qua e là. I cittadini inoltre segnalano che in molti punti la vegetazione è completamente incolta e che non è inusuale trovarsi a contatto mentre si passeggia o si corre, con serpenti che in quei cispugli hanno realizzato le loro tane. Ma non sono gli unici animali con cui di tanto in tanto i cittadini di Pacevecchia devono fare i conti. In alcuni punti i marciapiedi sono sconnessi. Non è raro, raccontano alcuni di loro, che da questi buchi, specie se in prossimità delle fogne, escano topi che qualcuno si è anche ritrovato in casa o in garage. Erano sedute sulla balaustra in ferro che delimita il lungomare Pedonai-Salerno quando ad un tratto la ringhiera di ferro ha ceduto e tre persone sono cadute all'indietro sul cemento. Un volo di circa due metri che ha provocato ferite ed escorazioni varie ai malcapitati. Il fatto è avvenuto ieri sera. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa che hanno medicato i feriti poi trasportati in ospedale per accertamenti. Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Le balaustre che è venute in lungomare Trieste dall'armare sono abbastanza datate, molto arrugginite e di certo non aiuta che specialmente i più giovani vengono utilizzate come improvvisate sedute. Ieri l'incidente che ha creato non poco trambusto sul lungomare affollato di gente. Torniamo ad Avellino. L'esproprio della dogana deve andare avanti. Il comune non deve sborsare altri soldi all'asta. E scontro tra Comitato Salviamo la dogana e Comune sul futuro dello storico edificio di Piazza Mendola. L'esproprio della dogana di Avellino deve essere la priorità per il comune. La strada dell'asta rimanga secondaria. E' la posizione chiara che il Comitato Salviamo la dogana ha portato in Commissione Urbanistica stamattina. Nell'incontro convocato dal Presidente genovese e a cui hanno partecipato anche gli assessori Tomasone e Carbone. Sembra che stamattina questa possa essere anche la linea dell'amministrazione, finalmente. Anche se continuano a affermare che poi bisogna partecipare all'asta. Io non capisco come possa poi un comune partecipare a un'asta la cui cifra potrebbe crescere all'infinito. Quando invece il punto di partenza dell'esproprio è intorno ai 450 milioni di euro, ben distante già dalla base d'asta. L'asta non c'entra nulla, bisogna procedere con l'esproprio. L'obiettivo è arrivare ad un'informativa sullo storico edificio di Piazza Mendola e sulla strada che il comune intende percorrere per riappropriarsi del bene. Non sarà facile visti anche i momenti di scontro e di tensione registrati stamattina in Commissione. Secondo Franco Festa, presidente del comitato, in quest'ultimo anno si è perso solo tempo e sono state dette troppe sciocchezze. Il nudo è che se un anno fa hanno detto che occorre una settimana per l'esproprio e poi è passato un anno e tutto ciò non è stato ancora fatto, allora è chiaro che qui concretamente non possiamo prendere atto del fatto che non si procede con serietà, non ci sono le idee chiare. E' un quadro di una tristezza sconsolante. Abbiamo raccolto pareri concreti e autorevoli, continua Festa, secondo cui la messa all'asta della dogana non inficia la procedura d'esproprio per pubblica utilità da parte del comune. L'esproprio prevale su tutto perché è una procedura sostenuta dalla dichiarazione di pubblica utilità del Ministero dei Beni Culturali. Dopo lo stop per via delle polemiche tra cure e comune tornano i fuochi di artificio in onore di San Matteo a Saverno. Ieri la tradizionale alzata del panno, Moretti, Arcivescovo, esorta i fedeli, sia il giubileo della città. Tornano i fuochi d'artificio in onore di San Matteo, il santo patrono di Saverno. L'amministrazione comunale è infatti intenzionata a ripristinare lo spettacolo di luci sull'acqua che ha tenuto per anni salernitani e turisti, col naso all'insù. Poi, dopo le polemiche asprissime che hanno contrapposto municipio e curio, per due anni niente più fuochi d'artificio e la sensazione che, al netto della fede, la tradizione fosse monca. Le celebrazioni del prossimo 21 settembre invece torneranno all'antica usanza a largo della spiaggia di Santa Teresa. Intanto che il clima fosse diverso rispetto al passato recente lo dimostra anche la partecipazione registrata ieri alla tradizionale alzata del panno al Duomo. Sarebbe bello se la messa solenne fosse il giubileo della città di Salerno, le parole dell'arcivescovo Luigi Moretti, che ha citato Papa Francesco e il suo invito a celebrare nel migliore dei modi la ricorrenza attraverso la misericordia. Il pastore delle anime ha chiamato a raccolta i fedeli salernitani già per il prossimo 15 settembre, quando Piazza Flavio Gioia ospiterà il tradizionale omaggio floreale al santo. Intanto questa mattina è andata in scena una seconda alzata del panno nei pressi di Via Duomo. Una novità inserita con l'obiettivo di sensibilizzare ancora di più la città e che non è nemmeno l'unica. L'edizione 2016 della Festa del Santo Patrono vedrà infatti l'istituzione del premio San Matteo, un riconoscimento consegnato a quattro salernitani che si sono distinti nelle arti e nel sociale. E con San Matteo si chiude la nostra edizione del telegiornale. Un ringraziamento a Paolo Romano in regia. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguiti da casa. Li invito ovviamente a restare sintonizzati sul nostro canale. A seguire l'informazione sportiva. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.